Lei ha detto che sono pronta a fare un passo indietro mostrando uno spirito rinnovato a questi dissidenti. Io mi auguro che il partito ha sesto ragioni e che si trovi quanto prima una via d'uscita perché questo fa male al partito, fa male al nostro rapporto con i cittadini. Penso che i cittadini non capiscono, penso che monti rancore poi alla fine verso la politica. Se ci sono dei problemi è bene che si discutano. Io per quello che mi riguarda considero Sara Biagiotti una dei migliori sindaci con cui ho avuto a che fare in questa regione. Non si può dire il migliore perché poi ce ne sono altri. Per l'impegno, per la serietà, per la volontà di affrontare i problemi. E io dico che adesso bisogna guardare avanti. Se poi c'è qualcuno che vuole mettere sulle spalle di Sara il problema dell'aeroporto, devo dire che il problema dell'aeroporto è tutto sulle mie spalle. Ce ne siamo assunti la responsabilità. Abbiamo già fatto delle scelte, abbiamo preso delle decisioni. Io penso ancora che sono state delle scelte giuste. E bisogna dire che quando sono state prese quelle scelte non c'era Sara Biagiotti, ma ce n'erano altri. Sono stato anche a Bruxelles a vedere la possibilità di finanziare cose che abbiamo discusso insieme anche al sindaco di Sesto. Ad esempio la questione della tramvia. L'Europa ci aspetta. È contenta se noi gli facciamo un quadro generale degli interventi che vogliamo fare sulla piana. Quindi anche il problema non solo della tramvia, ma anche il problema della velocizzazione e ulteriore utilizzazione della ferrovia. Cosa che per Prato e per Sesto sono fondamentali. Oppure il problema della scelta di soluzioni compensative dal punto di vista ambientale, come tutto il parco dei Sette Ettari che andrà piantumato e andrà governato e gestito. La stessa questione nel parco archeologico degli Etruschi. La stessa terza corsia. Tutta una serie di provvedimenti che in Europa vogliono discutere con la Regione e con i Comuni a partire ormai da settembre. Con l'Europa disposta anche a concederci l'utilizzo dei suoi fondi che sono stati assegnati alla Regione per traguardare un obiettivo di carattere generale sulla piana. Io penso che andare alle elezioni e ottenere sotto crisi rispetto a questi interventi la realtà di Sesto sia un grave errore. Quindi rinnovo sentitamente il mio appello perché ci si ripensi e perché si trovi la strada per andare avanti e governare nell'interesse dei cittadini.